la bomba atomica lavatevi le mani col sapone ogni secondo se sente e al culo vi lavamo col sapone vi portasci i vostri prima c'è stata a bene e a bene non gli entrava a far mori come le mosche e voi se lavate i mani col sapone a volte vi portasci i tuoi dessa gran fascia da cazzo eh quell'altra mignotta perdona di fazio gli chiese e dice ma non sarebbe il caso di chiudere i porti no 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 i porti rimangono aperti l'immortaccio i tuoi il culo ti dovrebbero aprir brutta droga gli attori quell'altro pelato del cazzo ma non chiediti pure ma non chiediti pure s'attacchela al cazzo l'immortaccio i tuoi e te non ti lo spessi è chiuso brutto verso andresti giustiziano domani mattina a piazza per popolo tutti quanti e quell'altro faccia da proprio di mare il virus mo perchè se stanno parlando a parlare inglese ma il virus adesso nel caso l'Italia si chiama virus che ci hai fatto entrare a te e tutti quelli sozzi cinesi come te mi portaci tu e di loro sei da comprare la monica che la cinesina è stata che la maschina è detto come sta che la maschina paura 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 di mortaccio i tuoi e dame i tuoi che ci hanno mannato mamma mia c'è stata affamore come mosca guarda come c'è il dedotto guarda come c'avete il dedotto al supermercato uno per porto e il tabaccare ha messo il vetro blindato mamma mia che fine c'è stato affamore ma vuoi dici che merda a tess' giustiziate domani parte in allarba brutte facce e un cazzo e quelle zoccole che stanno ai ministeri giustiziati scossati come i galline male letti Siete fascisti Magari Benvengano porca broia Benvengano Guarda che fine c'è davanti qua Di mortaggi vostra Maledetti Siete da Youtube